Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Clavia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Sono qui, Gurugi. Il mio imbarazzo era più eloquente delle mie parole. Andiamo in cucina a vedere se c'è qualcosa da mangiare. I modi di Sri Yukteswar erano del tutto naturali, come se ci avessero separati solo poche ore anziché giorni. Maestro, devo avervi contrariato venendo meno di improvviso ai miei doveri qui. Pensavo foste in collera con me. No, di certo. L'ira sorge soltanto dai desideri frustrati. Io non mi aspetto nulla dagli altri e quindi le loro azioni non possono in alcun modo contrapporsi ai miei desideri. Non mi servirei mai di te per perseguire fini personali. Ciò che mi rende felice è solo la tua vera felicità. Signore, si sente parlare di amore divino in modo vago, ma per la prima volta ne ho un esempio concreto nel vostro sé angelico. Nel mondo nemmeno un padre perdona facilmente il figlio se questi abbandona senza prevviso gli affari di famiglia. Voi invece non mostrate la minima irritazione, benché io debba avervi procurato non pochi disagi lasciando parecchi lavori incompiuti. Ci guardammo negli occhi luccicanti di lacrime. Un'ondata di gioia mi sommerse. Ero consapevole che il Signore nella persona del mio guru stava espandendo i piccoli ardori del mio cuore fino alle ampiezze incomprimibili dell'amore cosmico. Qualche mattino dopo mi recai nel soggiorno vuoto del Maestro. Mi ero proposto di meditare, ma il mio lodevole intento non era condiviso dai miei pensieri indisciplinati. Essi fuggivano disperdendosi come uccelli alla vista del cacciatore. Mukunda! La voce di Sri Yukteswar risuonò da una lontana balconata interna. Mi sentivo ribelle come i miei pensieri. Il Maestro mi esorta sempre a meditare, mormorai fra me e me. Non dovrebbe disturbarmi, ben sapendo perché sono venuto nella sua stanza. Mi chiamò di nuovo. Io rimasi ostinatamente in silenzio. La terza volta il suo tono era di rimprovero. Signore, sto meditando, gridai con piglio di protesta. So come stai meditando, rispose il mio guru, anche egli ad alta voce. Con la mente che si disperde qua e là come foglie nella tempesta. Vieni qui da me. Smascherato ed umiliato, tristemente lo raggiunsi. Povero ragazzo, le montagne non potevano darti ciò che volevi. Il Maestro parlava con tono carezzevole e confortante. Il suo sguardo calmo era impenetrabile. Il desiderio del tuo cuore verrà esaudito. Sri Yukteswar indulgeva raramente negli enigmi. Ero disorientato. Mi diede un colpetto sul petto al di sopra del cuore. Il mio corpo si radicò a terra, inamovibile. Il respiro mi venne estratto dai polmoni come ad opera di un potente magnete. D'un tratto, l'anima e la mente furono liberate dai vincoli della fisicità e fluirono all'esterno come luce liquida che filtrava da ogni poro. La carne era come morta, ma sapevo, nella mia intensa consapevolezza, che mai, prima d'allora, ero stato pienamente vivo. Il mio senso d'identità non era più strettamente circoscritto in un corpo, ma si estendeva agli atomi circostanti. I passanti, lungo strade lontane, sembravano muoversi dolcemente alla mia remota periferia. Le radici delle piante e degli alberi mi apparivano attraverso l'opaca trasparenza del terreno. Distinguevo il flusso interno della loro linfa. Tutto ciò che era nelle mie immediate vicinanze era nudo davanti a me. La mia consueta visione frontale si era trasformata in un'ampia visione sferica, in cui la percezione era simultanea e completa. Attraverso la parte posteriore del capo, vedevo degli uomini camminare lontano, lungo la Raigat Road, e notai anche una mucca bianca che avanzava piano piano. Quando raggiunse lo spiazzo, propiscente il cancello aperto dell'Avshram, la osservai con i miei due occhi fisici. Continuai a vederla chiaramente anche quando passò oltre, dietro il muro di mattoni. Tutti gli oggetti, compresi nella mia visione panoramica, apparivano tremoli e vibranti, come immagini di un film accelerato. Il mio corpo, quello del maestro, il cortile con il colonnato, i mobili e il pavimento, gli alberi e i raggi del sole, si agitavano di tanto in tanto violentemente, per poi fondersi in un mare luminescente, come cristalli di zucchero che, versati in un bicchiere d'acqua, si disciolgono dopo essere stati miscelati. La luce unificante si alternava alle materializzazioni della forma. Le metamorfosi rivelavano la legge di causa d'effetto all'opera nella creazione. Una gioia oceanica proruppe sulle calme di infinite rive della mia anima. Lo spirito di Dio, compresi, è beatitudine inesauribile. Il suo corpo è formato da innumerevoli tessuti di luce. Un fulgore di continua espansione dentro di me iniziò ad alvolgere le città, i continenti, la terra, il sistema solare e quello stellare, le tenue nebulose e gli universi fluttuanti. Il cosmo intero, fiocamente luminoso, come una città vista di notte in lontananza, brillava entro l'infinità del mio essere. I profili globali, nettamente delineati, si sfocavano leggermente verso i margini estremi, dove potevo scorgere una radiazione soffusa che non accennava a diminuire. Era indescrivibilmente sottile. Le immagini planetarie erano formate invece da una luce più spessa. La divina dispersione di raggi scaturiva da una fonte eterna, rilucente nelle galassie, trasfigurata da aure ineffabili. Vidi lampi creatori condensarsi incessantemente in costellazioni, per poi risolversi in lembi di fiamma trasparente. Per ritmica inversione, miriadi di mondi si trasformavano in una diafana luminescenza. Il fuoco diveniva firmamento. Conobbi il centro dell'empireo quale punto di percezione intuitiva nel mio cuore. Uno splendore irradiante emanava dal mio nucleo verso ogni parte della struttura universale. L'amrita celestiale, il nettare dell'immortalità, pulsava in tutto il mio essere con la fluidità dell'argento vivo. Udì la voce creatrice di Dio risuonare come AUM, la vibrazione del motore cosmico. D'un tratto il respiro ritornò nei miei polmoni. Provando una delusione quasi intollerabile, mi accorsi di aver perduto la mia immensità infinita. Ero confinato ancora una volta nell'umiliante gabbia di un corpo che a fatica riesce a contenere lo spirito. Come un figlio al prodigo, ero fuggito dalla mia casa macrocosmica e mi ero imprigionato in un ristretto microcosmo. Il mio guru era immobile, in piedi di fronte a me. Stavo per gettarmi ai suoi santi piedi, in uno slancio di gratitudine per quell'esperienza di coscienza cosmica che avevo ricercato così a lungo e con tanto ardore, ma egli mi trattenne e parlò con tono calmo e misurato. Non devi lasciarti inebriare eccessivamente dall'estasi. Ti resta ancora molto lavoro da compiere nel mondo. Vieni, spaziamo il pavimento del balcone, poi faremo una passeggiata lungo il gange. Andai a prendere una scopa. Sapevo che il maestro mi stava insegnando il segreto del vivere equilibrato. L'anima deve stendersi sugli abissi cosmogonici mentre il corpo svolge i propri compiti quotidiani. Più tardi, quando uscimmo a camminare, ero ancora immerso in un ineffabile rapimento estatico. Vedevo i nostri corpi come due immagini astrali in movimento lungo la strada che costeggiava il fiume, la cui essenza era pura luce. È lo spirito di Dio che sostiene attivamente ogni forma e forza nell'universo. Egli, tuttavia, è trascendente e distaccato nel vuoto increato colmo di beatitudine, al di là dei mondi, dei fenomeni vibratori, spiegò il maestro. I santi, che sono coscienti della propria divinità anche nella carne, conoscono una simile, duplice esistenza. Pur impegnandosi coscienziosamente nel proprio compito terreno, restano immersi nella beatitudine interiore. Il Signore ha creato tutti gli uomini dall'illimitata gioia del suo essere. Benché essi siano dolorosamente limitati dal corpo, Dio si attende che le anime fatte a sua immagine si elevino infine al di sopra di tutte le identificazioni sensoriali e si riuniscano a Lui. La visione cosmica mi lasciò molti insegnamenti duraturi. Acquietando ogni giorno i miei pensieri, riuscì ad affrancarmi dall'illusoria convinzione che il mio corpo fosse una massa di carne ed ossa che percorreva il duro suolo della materia. Vidi che il respiro e la mente requieti erano simili a tempeste che agitavano violentemente l'oceano di luce formando ondate di forme materiali. La terra, il cielo, gli esseri umani, gli animali, gli uccelli, gli alberi. Non si può avere alcuna percezione dell'infinito come unica luce se non placando tali tempeste. Ogni volta che riuscivo a far cessare i due tumulti naturali, contemplavo le molteplici onde della creazione fondersi in un unico mare lucente, proprio come le onde dell'oceano, cessate le tempeste, serenamente si dissolvono nell'unità. Un maestro concede l'esperienza divina della coscienza cosmica quando il suo discepolo, attraverso la meditazione, ha rafforzato la propria mente al punto da non essere sopraffatto dalla vastità delle visioni. Una tale esperienza non può mai essere concessa solo grazie alla semplice propensione intellettuale o all'apertura mentale. Soltanto un'adeguata espansione, ottenuta attraverso la pratica dello yoga e la bhakti devozionale, può preparare la mente ad assorbire il liberante sciocche dell'onnipresenza. Essa aggiunge spontaneamente ed immancabilmente per il devoto sincero. L'intenso desiderio comincia ad attrarre Dio con forza irresistibile. Il Signore, in quanto visione cosmica, è richiamato dall'ardore magnetico entro il campo di coscienza di chi lo cerca. Negli anni successivi scrissi la seguente poesia, Samadhi, sforzandomi di esprimere la gloria di tale stato cosmico. Svaniti di luce e d'ombra i veli, sollevata ogni nebbia di dolore, dileguata ogni alba di effimera gioia, scomparso dei sensi l'incerto miraggio. Amore, odio, salute, malattia, vita, morte, perirono queste false ombre sullo schermo della dualità. Onde di risa, scille di sarcasmo, vortici di malinconia, si fondono nel vasto oceano della beatitudine. La tempesta di Maya si è acquietata per l'incanto della profonda intuizione. L'universo, sogno dimenticato, si cela furtivo nel subconscio, pronto ad invadere l'appena ridestata memoria del divino. Io vivo senza la cosmica ombra, ma questa non vive se divisa da me. Come il mare esiste senza le onde, ma esse non respirano senza il mare. Sogni, risvegli, stati di profondo turia, sono presente, passato, futuro, per me non sono più, ma io onnipresente, io che fluisco ovunque, io in ogni luogo. Pianeti, stelle nebulose, terra, vulcanici, cataclismi da giorno del giudizio, la fornace dove si plasma il creato, ghiacciai di silenti raggi X, torrenti incendiati di elettroni, i pensieri degli uomini tutti, passati, presenti, futuri. Ogni filo d'erba, me stesso, l'umanità, ogni particella della polvere universale, collera, avidità, bene, male, salvezza, lussuria, tutto inghiottii, tutto tramutai nel vasto oceano di sangue del mio unico essere. Gioia nascosta sotto le ceneri, spesso attizzata dalla meditazione, accecando i miei occhi di pianto, divampò in immortali fiamme di beatitudine, consumando le mie lacrime, la mia forma, tutto me stesso. Tu sei me, io sono te, conoscenza, conoscitore, conosciuto in uno. Quiete, perenne e brivido, eterna pace sempre nuova. Godibile, oltre l'immaginato, beatitudine del samadhi. Non un anestetico mentale o uno stato inconscio senza voluto ritorno, il samadhi è un'espansione della mia sfera cosciente, oltre i limiti della forma mortale, fino ai più lontani confini dell'eternità, dove io, cosmico mare, contemplo il piccolo ego che fluttua in me. Il passero, ogni granello di sabbia, non cadono senza che io li veda. Tutto lo spazio, come un iceberg, galleggia sul mio mare mentale, immenso contenitore, io, d'ogni cosa creata. Dalla più lunga, più profonda, assetata meditazione, dono del guru, viene questo celestiale samadhi. Sodono i danzanti mormori degli atomi, l'oscura terra, monti, valli, ecco, son liquido fuso. I mari fluenti si mutano in vapori di nebulose. La hum soffia sui vapori, squarciando meravigliosamente i loro veli, e rivela oceani, scintillanti elettroni, finché, all'ultimo tocco del cosmico tamburo, le luci più dense svaniscono nei raggi eterni dell'onnipervadente e attitudine. Dalla gioia venni, per la gioia vivo, nella sacra gioia mi immergo. Oceano della mente, io bevo tutte le onde della creazione. Quattro veli di solido, liquido, vapore e luce si sollevano del tutto. Io stesso, in ogni cosa, entro nel grande me stesso. Svanite per sempre le incerte, vacillanti ombre delle memorie mortali. Immacolato è il mio cielo mentale, sotto, davanti, in alto. L'eternità è Dio, un solo raggio unito. Da minuscola bolla di risa, sono divenuto il mare stesso della gioia. Zri Yukteswar mi insegnò come richiamare volontariamente la beata esperienza ed anche come trasmetterla ad altri, qualora i loro canali intuitivi fossero sviluppati. Per mesi entrai in quell'unione statica e compresi a fondo la ragione per cui, nell'Eupanishad, si afferma che Dio è rasa il più delizioso. Un giorno, tuttavia, sottoposi al maestro un problema. Voglio sapere, signore, quando troverò Dio. Lo hai trovato? Oh no, signore, non credo. Il mio guru sorrideva. Sono sicuro che non ti aspetti un personaggio venerabile seduto su un trono in qualche angolo antisettico del cosmo. Vedo però che consideri il possesso di poteri miracolosi come equivalente alla conoscenza di Dio. Si può avere l'intero universo e tuttavia constatare che il signore ancora ci sfugge. L'evoluzione spirituale non si misura dai poteri esteriori, ma soltanto dalla profondità della beatitudine che si raggiunge nella meditazione. Dio è gioia sempre nuova. Egli è inesauribile. Se continuerai a meditare nel corso degli anni, Egli ti attrarrà a sé con ingegnosità infinita. I devoti che, come te, hanno trovato la via che conduce a Dio, non si sognano neppure di rinunciare a Lui in cambio di qualsiasi altra felicità al mondo. La sua capacità di sedurre è senza pari. Come ci stanchiamo presto dei piaceri terreni. Il desiderio di beni materiali non ha fine. L'essere umano non è mai appagato completamente e rincorre un traguardo dopo l'altro. Quel qualcos'altro che Egli cerca è il Signore, il solo in grado di garantire la gioia duratura. Le brame esteriori ci scacciano dall'Eden interiore. Offrono piaceri falsi, meri simulacri della felicità dell'anima. Il paradiso perduto viene ben presto riconquistato attraverso la meditazione divina. Poiché Dio è l'imprevedibile novità perenne. Non ci stanchiamo mai di Lui. Ci si può forse saziare della beatitudine, deliziosamente varia per tutto il corso dell'eternità. Ora comprendo, Signore, perché i Santi definiscono Dio insondabile. Perfino la vita eterna non basterebbe per conoscerlo in tutti i suoi aspetti. È vero, ma Egli è anche vicino e caro. Dopo che la mente, attraverso il Kriya Yoga, è stata sgombrata dagli ostacoli sensoriali, la meditazione fornisce una duplice prova di Dio. La gioia sempre nuova è un segno della sua esistenza che ci convince fino ad ogni nostro atomo. Nella meditazione, inoltre, si trova la sua guida immediata, la sua risposta adeguata ad ogni difficoltà. Capisco, Guruji, avete risolto il mio problema. Sorrisi con gratitudine. Ora so davvero di aver trovato Dio, perché ogni volta che la gioia della meditazione è riemersa inconsciamente, in me, nelle mie ore di attività, sono stato sottilmente guidato a seguire la giusta direzione in ogni circostanza, perfino nei minimi dettagli. La vita umana è costellata di sofferenza finché non impariamo a sintonizzarci con la volontà divina, la cui giusta direzione appare spesso sconcertante, all'intelligenza dell'ego. Dio regge il peso del cosmo. Lui solo può dare consigli infallibili.